Eseguite nove misure cautelari per i reati di associazione, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all'onore al prestigio del Presidente della Repubblica, Polizia in azione a Genova, La Spezia e Massacarrara nei confronti di alcuni militanti anarcho-insurrezionalisti appartenenti al circolo anarchico Goliardo Fiaschi di Carrara. Gli arrestati realizzavano un quindicinale per diffondere il pensiero anarchico più oltransista, eseguite perquisizioni anche nelle province di Bergamo, Lucca, Massacarrara, L'Aquila e Perugia.